E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e preparatevi a tornare indietro nel tempo. Siamo tornati ancora una volta nel lontanissimo 2013 con questo videogioco della PS3, Sly Cooper Ladri nel Tempo. Ora però voglio dirvi una cosa, in questo terzo episodio, visto che siamo nell'era preistorica, se voi avete raccolto le 30 bottiglie, ora noi dobbiamo aprire subito questa cassaforte e sono sicuro che troveremo qualcosa di più bello. Proviamoci. Ma per aprirla dobbiamo fare in fretta perché anche questa ha 30 secondi di tempo. Facciamolo, via! Abbiamo aperto la cassaforte e guardate se abbiamo trovato l'occhio di clockwork. Ora con questo occhio di clockwork potete individuare le bottiglie e le casse forti. Bene è tutto ragazzi, vi saluto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto condividetelo e iscrivetevi. Fateci un po' sapere cosa ne pensate nel video nei commenti qui sotto. Ehi, abbiamo già aperto la terza cassaforte in questo show di Sly Cooper ladri nel tempo. Ricordatevi che abbiamo aperto la cassaforte nel primo episodio, nel secondo episodio e nel terzo episodio. Bene, ho detto troppo ragazzi. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.